...e delle ispezioni svolte a tutela delle acque. Più controlli per restituire alla comunità un mare e un ambiente più puliti, ma anche per ripristinare la legalità. La Guardia Costiera, sotto lo stretto coordinamento della Procura della Repubblica di Pesaro, ha concluso un'articolata attività di polizia ambientale finalizzata alla tutela del litorale pesarese mediante la ricerca di scarichi abusivi confluenti in mare e la prevenzione di illeciti in materia di rifiuti. Grazie a una ricognizione eseguita a bordo di un elicottero del terzo nucleo aereo dei colleghi di Pescara, i militari hanno eseguito delle verifiche lungo il fiume Foglia con una sofisticata strumentazione elettronica in grado di rilevare, ad esempio, la diversa temperatura dell'acqua e le parti inquinate. Poi, i campionamenti effettuati con il supporto tecnico dell'ARPAM hanno evidenziato il superamento dei valori limite previsti per alcune sostanze. Inoltre, sono stati scoperti oltre 100 edifici non ancora allacciati alla nuova rete fognaria e sono stati eseguiti sequestri penali di alcune aree in cui erano stati abbandonati rifiuti di ogni genere, anche pericolosi, come l'Eternit. A finire nei guai, pur un'azienda che si occupa di componenti di arredamento a causa dello scarico di colla industriale utilizzata nel ciclo di lavorazione. Più in generale, numerose persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria e sono state elevate sanzioni per un importo complessivo superiore a 200.000 euro. L'azione di vigilanza ha consentito di riqualificare aree nel territorio provinciale per circa 30.000 metri quadrati. Dottoressa, lei ha sottolineato anche questo lavoro di squadra tra enti, istituzioni e forze di polizia. Quali sono i riscontri, quindi i risvolti dell'attività svolta? Allora, i risvolti sono i vari singoli risultati di cui abbiamo cercato di dare restituzione oggi in questa comunicazione e quindi aree di terreno bonificate e riportate a uno stato buono. Acque che sono state protette perché sono cessati e sono stati rimossi gli scarichi abusivi, sono stati bonificati gli scarichi che dovevano andare gestiti in altro modo e quindi il risultato concreto è un'acqua del fiume migliore, un'acqua del mare migliore. E io spero in qualche maniera, all'esito di questa comunicazione, anche un risultato potrebbe essere una maggiore consapevolezza dei cittadini che le varie autorità lavorano spesso in grande armonia e ognuno portando il proprio contributo per migliorare la loro vita e non soltanto per opprimerla come invece a volte sembra essere percepito. Il bilancio dell'operazione è stato illustrato nel dettaglio insieme alla comandante della Capitaneria di Porto e il Capitano di Fregata Barbara Magro. Abbiamo risalito numerosi scarichi, come è stato spiegato in conferenza, circa un'ottantina di scarichi e sono state verificate anche documentalmente le cause dell'inquinamento. Coinvolto poi anche il Comune di Pesaro che ha emesso le varie ordilanze? Centinaia diceva. Sì, coinvolto il Comune di Pesaro che laddove sia stato verificato che l'inquinamento derivava dal bancato allaccio di unità abitative provvedeva a emettere le relative ordinanze e l'80% delle quali hanno trovato adempimento. Quindi importanti sono anche i risultati e le ricadute positive di questa attività. Controlli che proseguiranno? Controlli che sicuramente proseguiranno, non ci fermiamo. Il nostro elicottero ha sorvolato un'altra astra vasta fluviale, ci sposteremo sul metauro, ma continueremo i controlli anche lungo il foglio e lungo le coste di competenza. Grazie. 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 Grazie.